Quanto manca ancora per vedere il vero di Paolo Antonio in fase offensiva? Innanzitutto adesso mi sto limitando ad aiutare la squadra in fase difensiva perché il mister dice prima di andare all'attacco di non prendere gol poi comunque mi piacerebbe anche aiutare un po' la squadra in fase offensiva che è quello che mi sta mancando un pochettino Temi la concorrenza del nuovo rinforzo in arrivo? Innanzitutto è meglio che ci sia la concorrenza così ci si allena più forte e ci si allena più duramente però è giusto che è arrivato questo rinforzo che ci servirà sicuramente per il proseguito del campionato perché comunque a centrocampo siamo un po' contati quindi questo arrivo ci darà sicuramente qualcosa in più Pensando alla partita di sabato prossimo contro l'Ancona Da Terramano non ho mai giocato contro l'Ancona quindi questo è un motivo di sprono per andare a vincere l'Ancona Comunque sicuramente è una partita difficile perché l'Ancona non è la squadra dell'andata ha fatto tantissimi punti ultimamente però viene da un capo a Ponte d'Era quindi vorranno riscattarsi sicuramente davanti al loro pubblico e noi dovremmo dare qualcosa in più per vincere la partita Da Terramano sono il doppio più felice perché comunque fare un campionato di vertice di prima divisione così a Terramo penso che ci sia stato perché comunque Terramo è sempre una squadra che ha fatto C1 però in questa parte di classifica penso non ricordo che ci sia stato così tanto altro però comunque continuiamo per la nostra strada adesso mettiamo i punti salvezza che servono per finire il campionato e poi comunque quello che verrà è tanto di guadagnato Adesso abbiamo due partite fuori casa che sono fondamentali e ci dirà dove può arrivare questo Terramo